siamo al mcdonald, ha un mcdonald inglese e uno dice di dipendere dalla roba la differenza prima di tutto che vi ho detto è tipo l'impostazione guardate tipo c'è la barra da ferrari che è molto diversa da quella che troviamo in Italia molto figo però cosa c'è? dessert non va! cioè ora va cosa dici? c'è il brownie c'è il brownie c'è il brownie possiamo prendere ehi, non va la barra da serare quale di questi possiamo fare? facciamo uno e uno una qualità che non mi piace di quell'inglese che non vanno mai si, vai a tour bella sta nascendo vogliamo fare la carità? no, no basta not today fai una faccia al cibo 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 ah c'è questo è il mio questo è il suo ora in proporzione aspetta che non ho mai mangiato un mc curry in casa mia ah strano questi ha la proporzione di un mc curry e un gabrile è un mini mc curry è un mini è abbastanza piccolo se faccio tipo così si vede un po' meglio questo è tipo galaxy e questo è oreo buono eh? buono eh? non è male in realtà pensavo peggio il ciò quello vuol dire la coppetta cioè la coppetta è di carta eh? però è ok però gustano perchè in italia non è di carta si vero siamo via da due giorni l'acqua la puoi riempire nelle cucine degli appartamenti dicono però nelle stanze no 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 ma eravate anche trattati meglio l'anno scorso sì sicuramente no non male un'altra cosa bella del mcdonald è che se tiri fuori la bottiglia d'acqua che non hai comprato qui nessuno frega un cazzo perchè nessuno frega un cazzo di dieta la mcdonald è qui è anche parte della quota nel senso che dice che anche per quello che la gente cina il mc vende oltre ai panini la felicità la felicità non si compra io mc ohhh certo la paletta di carta è un po' strano Vabbè, in Italia è di cazzo o no? No, è di plastica. Questo me lo ricordo, eh. Però dimmi, di cosa sa? Di niente. Come di niente? Di cosa sa? È un po' cioccolatoso, però va bene. È tanto zuccherato, però è un gelato. Questo è? È un McDonald's, dico. Poi io dico, se finisce il video dai. Non so come finire il video. Lo finisci così? Ciao. Non so cosa dire. Ciao. Ciao.